Ben trovati a tutti i gentili telespettatori ad una nuova edizione del Tg6 dall'Aquila. In apertura torniamo a parlare dell'inchiesta della Procura dell'Aquila sulla presunta corruzione per la ricostruzione del complesso salesiano di Don Bosco. Ricordiamo, sono finiti agli arresti l'ex vice sindaco Roberto Riga e l'imprenditore Massimo Mancini. Nel merino però della magistratura sono finiti anche l'ex responsabile dell'ufficio speciale per la ricostruzione Paolo Aielli e il dirigente comunale Vittorio Fabrizi. Sentiamo. Nomi che fanno rumore, un contesto che ora dopo ora si va chiarendo sempre di più, stando alle carte della magistratura e sullo sfondo una città ancora una volta al centro dei media per vicende legate a corruzione, appalti pilotati e un fiume di soldi pubblici utilizzato per agevolare amici e amici degli amici. Si arricchisce di nuovi particolari l'inchiesta che ha portato agli arresti domiciliari l'ex vice sindaco dell'Aquila ed ex assessore all'urbanistica Roberto Riga e l'imprenditore Massimo Mancini, numero 2 dell'Aquila Calcio. Nell'ambito dello stesso procedimento risultano indagati anche il dirigente comunale Vittorio Fabrizi e l'ex capo dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione Paolo Aielli, attuale amministratore delegato dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Altri due imprenditori sono interdetti dall'attività di esercitare imprese e ruoli direttivi in attività con personalità giuridica. Si tratta di Simone Lorenzini e Sandro Martini. Tutto ruota la ricostruzione dell'intero complesso salesiano, che stando alle procedure si sarebbe dovuto finanziare con un importo massimo di 80.000 euro e che invece, stando alle ipotesi investigative, grazie all'intervento di Riga, avrebbe beneficiato di un contributo da 28 milioni e mezzo di euro per lavori che poi ha eseguito la ditta Mancini. L'ipotesi accusatoria nei loro confronti di corruzione, che per magistrati e guardia di finanza si sarebbe materializzata con soldi che Riga avrebbe utilizzato per comprare auto ed appartamenti, poi affittati ad un canone fuori mercato proprio a Mancini. Ipotesi di corruzione anche per gli imprenditori Lorenzini e Martini, mentre Aielli e Fabrizi sono finiti nel mirino della magistratura per concorso in abuso d'ufficio, in quanto avrebbero dovuto rilevare l'irregolarità della pratica e fermarla prima dell'erogazione del maxi contributo. Il sindaco Cialente si è detto addolorato e nauseato per questa vicenda, mentre il deputato abruzzese Gianni Melilla è tornato ad invocare la creazione di una commissione d'inchiesta sulla ricostruzione posta terremoto. E a proposito di ricostruzione, intanto il sindaco dell'Aquila Massimo Cialente ha emesso un'ordinanza con cui dispone che tutte le ditte impegnate nelle cantieri della ricostruzione, sia pubblici che privati, provvedano ad uniformare le tabelle di cantiere secondo delle prescrizioni standard fornite per maggior sicurezza e informazione per il pubblico. Il documento rileva infatti che nel territorio comunale ci siano indicazioni ritenute incomplete e pertanto insufficienti a fornire un'adeguata comunicazione sulle lavorazioni relative alla ricostruzione. Le indicazioni sulla compilazione della tabella sono sul sito del Comune dell'Aquila all'indirizzo www.comune.l'aquila.it nella pagina canterizzazioni e demolizioni, documenti nella sezione ricostruzione dell'area sisma. E apriamo una pagina di lavoro, infatti le RSU dell'Intex dell'Aquila chiedono al Presidente della Repubblica Mattarella che lunedì farà visita all'Aquila un'udienza. Sono 120 ricercatori, tre ingegneri informatici, fisici e matematici di lunga esperienza, dicono in una lettera che inviano al Presidente della Repubblica. Siamo oppressi dalla crisi dalla quale il nostro territorio non sembra riuscire ad emergere per un'adeguatezza imprenditoriale e gestionale delle professionalità e poi ancora per la stretta sugli ammortizzatori sociali introdotte dalle recenti misure del Job Act. Ci rivolgiamo a lei questa richiesta di un'udienza della nostra delegazione in occasione della sua prossima visita all'Aquila che ricordiamo ci sarà lunedì prossimo. E si torna a porre l'attenzione sulla sicurezza nel lavoro, in questo caso lo fa la CGL che dopo l'incidente gravissimo mortale della Valle Roveto, esprimendo naturalmente cordoglio alla famiglia peraltro di un iscritto a questo sindacato, la CGL invita tutti quanti ad unirsi compresi gli altri sindacati per avviare un confronto con gli enti preposti per tornare a parlare del dramma sociale del quale ci si occupa poco appunto della sicurezza nei luoghi di lavoro che non sono solo i cantieri come dimostra purtroppo la triste cronaca. E rimaniamo sempre a parlare di lavoro perché arriva per i precari del Comune dell'Aquila un'ultima possibilità, l'emendamento in finanziaria. Infatti la senatrice PD Stefania Pezzopane ha presentato due emendamenti in Commissione e bilancio per prorogare ulteriori tre anni i contratti dei 56 precari del Comune dell'Aquila che ricordiamo sono scaduti a settembre. Vediamo. È forse l'ultima spiaggia per i 56 precari del Comune e dell'Aquila con contratto scaduto da tempo e senza possibilità di rinnovo nonostante parte della politica locale e del sindacato siano convinti che si possa andare in deroga al Jobs Act. Nella prossima legge di stabilità la senatrice Dem Stefania Pezzopane ha predisposto due emendamenti che riguardano i precari degli uffici speciali del Cratere e dei Comuni. Per i precari dei Comuni del Cratere, i cui contratti scadono a fine anno a differenza di quelli del Comune dell'Aquila già scaduti a fine settembre si dispone la proroga o rinnovo per gli anni 2016-2017 al fine di completare le attività finalizzate alla fase di ricostruzione e del tessuto urbano e sociale e occupazionale dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009. I contratti saranno prorogati o rinnovati alle medesime condizioni giuridiche ed economiche in deroga alle vigenti normative in materia di vincoli alle assunzioni a tempo determinato presso l'amministrazione pubblica. Alle proroghe e rinnovi dei suddetti contratti eseguiti in deroga alla legge spiega la Pezzopane, non sono applicabili le sanzioni previste dalla normativa vigente i vi compresa la sanzione della trasformazione del contratto a tempo indeterminato. Stesso trattamento anche per i precari dei due uffici speciali ovvero quello dell'Aquila e quello del Cratere. Gli emendamenti sono arrivati in commissione bilancio e hanno iniziato l'iter per l'approvazione che arriverà ovviamente prima della discussione della legge di stabilità in Parlamento. Chissà cosa diranno gli idoni del concorsone che da tempo chiedono lo scorrimento delle gradatorie o il vice sindaco Trifuoggi che in più occasioni si è detto contrario alle proroghe per motivazioni prettamente giuridiche e legislative. Il nodo verrà sciolto nei prossimi giorni. E anche per manifestare sul problema dei precari del Comune dell'Aquila ma non solo, la CISL della provincia dell'Aquila annuncia l'adesione del sindacato alla manifestazione del pubblico impiego prevista per il prossimo 28 novembre a Roma. L'avvertenza del pubblico impiego è particolarmente sentita all'Aquila dove c'è ancora una parte di città da ricostruire ed è una partita aperta sul personale negli enti locali in particolare sui precari del Comune. E a proposito di lavoro in comune l'assessore alle risorse umane del Comune dell'Aquila Betti Leone annuncia che presenterà una deliberazione per trasformare sei contratti di lavoro del personale di vigilanza dal regime di part-time a quello di full-time. Il passaggio, ha detto l'assessore Betti Leone sarà possibile grazie all'utilizzo di residui di capacità assunzionali degli anni precedenti. In questo modo tutto il personale di vigilanza del settore di polizia municipale avrà un contratto a tempo pieno e questa trasformazione garantirà anche un'ulteriore una migliore programmazione e turnazione del personale in servizio. Andiamo ora sul Gran Sasso perché a poche settimane dall'avvio della stagione turistica il Comune dell'Aquila e il centro turistico del Gran Sasso pubblicano un bando per affidare la gestione dell'albergo di campo imperatore ma anche del bar annesso e dei rifugi in quota. Insomma una vera corsa contro il tempo affinché sia tutto pronto per l'inizio della stagione. Sentiamo Giorgio Alessandri. È corsa contro il tempo per cercare di arrivare ad una soluzione in grado di salvare la stagione turistica sul Gran Sasso ormai alle porte. Con il vecchio gestore che non c'è più infatti Comune e centro turistico sono alla ricerca disperata di qualcuno che gestisca il bar e la menzia del rifugio in quota quelli dell'albergo, il rifugio Fontari ed il rifugio Monte Cristo e i proprietari di strutture e impianti di risalita ovvero Comune e centro turistico sperano di riuscire ad individuare una società che garantisca servizi fino al 30 giugno prossimo data di scadenza del contratto di affidamento. Una vera impresa considerando gli oneri di cui dovrebbe farsi carico l'eventuale nuovo gestore che in pochissimi giorni dovrebbe provvedere a ripulire tutto preoccuparsi di ordinare scorte per l'invernata preparare le camere per l'arrivo dei turisti ed individuare personale che garantisca presenza costante tutti i giorni. Insomma c'è poco da stare allegri sul Gran Sasso dove ormai da mesi si dibatte su investimenti milionari referendum per rivedere i confini delle aree protette e progetti a lungo termine. Per non parlare della privatizzazione degli impianti e della funivia argomento ormai da decenni al centro dell'agenda politica è rimasto senza alcuna risposta per ora di privati interessati ad investire sul Gran Sasso neanche l'ombra. L'8 dicembre però, neve permettendo, c'è da aprire una stagione sciistica per la quale da luglio è iniziata la pre-vendita degli ski pass. Bisognerà bruciare i tempi sempre che qualcuno risponda al bando perché tutto sia pronto altrimenti si rischia di ripetere figuracce come in passato con danni incalcolabili soprattutto dal punto di vista di immagine per gli operatori e per la montagna stessa. E per la pagina politica rimaniamo al comune dell'Aquila dove l'IDV fa quadrato attorno all'ex assessore l'Italia dei Valori infatti si stringe attorno all'ex assessore al bilancio Lelio De Santis ricordiamo cacciato dalla giunta nei giorni scorsi del sindaco Massimo Cialente ha lavorato bene, dicono e chiariscono i depititristi chiariscono che non lasceranno il centro-sinistra L'Italia dei Valori si stringe attorno all'ormai ex assessore al bilancio Lelio De Santis cacciato dalla giunta del comune dell'Aquila qualche giorno fa dal sindaco Cialente Durante il coordinamento regionale dell'IDV Abruzzo all'Aquila è stato riconosciuto all'unanimità si legge in una nota del partito il grande lavoro compiuto dal segretario regionale Lelio De Santis in qualità di assessore comunale in un momento storico difficile per la città Il partito ribadisce quanto già dichiarato nei giorni scorsi dallo stesso ex assessore ovvero che la formazione fondata da Di Pietro era e rimane nel centro-sinistra Possibile che lo stesso partito riproponga lo stesso De Santis per un ritorno in giunta una strada però quasi impercorribile dopo le dichiarazioni del sindaco che ha dichiarato apertamente di non avere alcun problema con i depititristi ma di considerare concluso il rapporto soprattutto dal punto di vista personale con De Santis Non ha gradito infatti il primo cittadino le affermazioni rilasciate in conferenza stampa da De Santis e di consiglieri comunali di V che chiedevano una maggiore spinta propulsiva alla macchina comunale secondo loro troppo ingessata proponendo anche rotazione dei dirigenti e taglio dei premi di produzione per quei settori che non avessero raggiunti gli obiettivi di fine anno richiesti apparentemente ragionevoli ma che hanno mandato su tutte le furie il sindaco Cialente che ha rimosso nel giro di 24 ore De Santis e ridistribuito le deleghe in attesa che l'IDV individui un nome nuovo da inserire in giunta Possibile che questo arrivi dopo una verifica della maggioranza palazzo di città dove da tempo si sente qualche scricchiolio di troppo e che il centrosinistra vuole provare ad aggiustare prima che si apra una voragine E per la cultura parliamo di stagione teatrale aquilana Lunetta Savino sarà la protagonista del prossimo spettacolo del teatro stabile Gran Guinola all'italiana una produzione dello stesso TSA per la regia di Alessandro Dalatri il suo direttore artistico vediamo insieme Gran Guinola all'italiana giovedì 12 novembre e venerdì 13 novembre al ridotto del teatro comunale sarà il prossimo spettacolo del cartellone del teatro stabile d'Abruzzo Gran Guinola all'italiana di Vittorio Franceschi per la regia di Alessandro Dalatri con Lunetta Savino e con Umberto Bortolami Carmen Giardina Sebastian Gimelli Morosini e Andrea Lupo tutti a presentare lo spettacolo di fronte al folto pubblico al Palazzetto dei Nobili grossolanità, cinismo, squartamenti e lacrime da cronaca nera Eros e bordello a infarcire un drammone popolare senza lieto fine nella Francia di fine ottocento il Gran Guinola era tutto questo un miscuglio non molto amalgamato di tinte fortissime farsesche macabre e cianfrusaglie talmente paradossale da essere a volte involontariamente comico l'ideale per raccontare l'Italia tendente allo zero di oggi Alessandro Dalatri riscopre questo attualissimo testo scritto da Vittorio Franceschi porta così sul palco un innocente colf depressa un salumiere di successo una guida turistica ignorante con una moglie fedifraga esterica un postino sensibilmente gay corna, liti, strafalcioni, soldi come nelle migliori famiglie con un immancabile coop de teatro finale c'è anche un cane che abbaia spesso però non entra mai in scena era questa l'ultima notizia a me non rimane che ringraziarvi della cortesa attenzione e invitarvi a rimanere sintonizzati con i programmi di TV6 grazie ancora grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti